allora buongiorno a tutti benvenuti a questo webinar parleremo di come creare messaggi efficaci su linkedin e mi presento mi chiamo niente bellini credo che mi conosciate se mi siete iscritti a questo mio webinar lavoro nel campo della comunicazione ma che digitale ha molti anni negli ultimi anni mi sono focalizzato sul mondo linkedin per le imprese per il business sono alcatore di questi libri oltre che docente professore per alcune master e business school università in italia allora di cosa parliamo oggi parliamo di come creare messaggi efficaci affronteremo molti aspetti però molti punti vi darò una serie suggerimenti quindi per ottimizzare questo tempo passato insieme ti consiglio di silenziale tuo smartphone di concentrarti magari prendendo carta penna per prendere appunti considera che io non condividerò le slide di questo contenuto nel video sarà solo disponibile per gli utenti premium per i miei corsisti per iscritti alla mia academy qual è la tesi di fondo su cui desidero condividere con te oggi che creare messaggi efficaci su linkedin ma non solo su linkedin è fondamentale per connettersi con nuove persone per riuscire fin dall'inizio a creare una buona sintonia a creare una buona prima impressione magari verso chi non ci conosce e riceve il nostro invito quindi ovviamente l'obiettivo è fare networking costruire relazione entrare in persato in contatto con persone rilevanti per avviare conversazione e attraverso i nostri messaggi noi come dire facciamo emergere la nostra capacità di generare empatia grazie alla tipologia la qualità il valore che trasferiremo guadagneremo reputazione costi guadagneremo la fiducia del nostro interlocutore ciò ci permetterà di trasformare una conversazione in qualcosa di più in probabilmente un'opportunità di business o in una relazione come dire più proficua più profittevole più durevole più forte come dicevo questo webinar non è un corso così come questo non è una pipa e oggi di cosa ti parlerò scoprirai come migliorare il tasso di accettazione i tuoi inviti su linkedin come ottimizzare il processo di linkedin outbound ovvero ricercare ingaggiare coltivare i tuoi lead mediante una sequenza di messaggi partiremo dal perché poi arriveremo al come e al cosa quindi vediamo perché alcune vedremo perché alcune delle nostre richieste di collegamento non sono accettate perché quindi i nostri messaggi non ricevono una risposta e vedremo alcuni esempi invece di come poter sviluppare una richiesta di collegamento come dire con alta tasso di accettazione vedremo poi il come quindi come personalizzare i nostri messaggi come avviare conversazione generale appuntamento usando i messaggi quindi vedremo tutto il flusso di messaggistica basato su un processo in cinque step e infine traeremo un po le le fila e cercheremo di capire cosa abbiamo imparato cosa dovremo fare per scrivere messaggi efficaci su linkedin allora cominciamoci meglio ho preparato qualche sondaggio vediamo se riesco a mandarli in atto allora sondaggi prima domanda lanciamo il primo sondaggio quindi vi do a qualche secondo per rispondere per capire chi siete chi qual è la platea che ho davanti siete manager aziendali 7 executive 7 dei titolari d'azienda 7 del solopreneur e vi occupate di marketing come consulente 7 del freelance di executive ok vediamo ancora qualche secondo ancora alcuni di voi devono votare ovviamente cercate il ruolo se non esattamente lo trovate più simile a quello da voi ricoperto ok ancora un attimo va bene allora c'è ancora qualcuno che sta votando ancora tre secondi 3 2 1 stop al televoto come si suol dire e vediamo un attimo i risultati quindi 17 per cento manager executive poi c'è qualche solo premio titolare in realtà la maggioranza sono consulenti di marketing o freelance va bene allora vediamo un attimo perché è importante la messaggistica su linkedin perché i messaggi possono essere importanti come altri canali che possiamo usare per contattare per raggiungere i nostri clienti o prospect come le mail come le telefonate per decision maker a volte in realtà otteniamo risultati migliori attraverso linkedin attraverso un invito una una uno sviluppo di una relazione attraverso messaggi su linkedin questo perché riusciamo a possiamo in qualche modo prepararci riscaldare per riscaldare il nostro contatto prima di inviare un messaggio che altrimenti risulterebbe a freddo cosa che non possiamo fare per esempio con una e mail diretta o attraverso la telefonata quindi sicuramente messaggi linkedin possono avere dei tassi di replica di accettazione di apertura e quindi di efficacia in generale maggiore superiore a quello delle telefonate o delle mela freddo e soprattutto noi pensiamo possiamo cadenzare strutturare una sequenza di messaggi che vadano a integrarsi all'interno della nostra comunicazione che tipicamente una comunicazione multicanale con il nostro interlocutore parleremo al telefono magari anche tramite dei messaggi su whatsapp manderemo loro delle mail e svilupperemo poi un'attitudine a utilizzare linkedin per integrare calibrare e migliorare attraverso questo nuovo canale che per esempio per alcuni dei nostri interlocutori potrebbe essere il canale preferito per integrare appunto le nostre le nostre modalità di entrare in comunicazione e relazione con queste persone e detto tutto ciò ovvio appena detto quindi messaggi linkedin idealmente in teoria possono anche funzionare molto di più delle telefonate a freddo il cui tasso di risposta è attorno all'uno per cento delle mail a freddo ancora una volta con un tasso di apertura molto basso e però vediamo comunque per le ragioni ve ne presento tre per cui i messaggi anche su linkedin non ricevano di risposta allora innanzitutto parliamo per esempio dei le richieste di colgamento il 95 per cento degli utenti linkedin usa messaggi standard quindi vorrei aggiungerti al mio network su linkedin quindi non personalizza il proprio messaggio ovviamente un messaggio generico che dimostra che non avete fatto alcuno sforzo di reale e autentico interesse a capire il mondo del vostro potenziale contatto quindi se non mettete cura attenzione dedizione impegno a costruire la vostra relazione difficilmente poi otterrete dei risultati di business quindi principale ragione sono che non hai personalizzato il messaggio se io vado a scorrere le richieste di collegamento poi lo vedremo in realtà trovo alcune risposta anche alcune richieste di collegamento personalizzate che però in realtà non sono realmente personalizzate cioè è un tipo di personalizzazione cosmetica dove cambia il nome o magari settore o il nome dell'azienda o il ruolo ma non si dimostra in alcun modo una reale conoscenza studio per esempio nel mio profilo di quelli che sono i temi che è tipicamente tratto discuto di cui di cui parlo non solo tramite questi webinar quindi il primo errore è quello di parlare di te e della tua azienda i tuoi prodotti quindi non parlare di te non esordire con un io io sono e faccio la mia azienda questi sono i miei prodotti ma parla di loro quindi di tu ok quindi dai del tuo al tuo interlocutore parla di loro della loro azienda dei loro problemi dei loro bisogni dei loro obiettivi delle loro criticità e questo è il punto primo punto importante secondo punto eh quando io ricevo un messaggio anche un invito su LinkedIn mi accorgo che molto spesso le persone non hanno un'idea di chi io sia ok eh quindi e perché non hanno un'idea di chi di chi io sia perché magari non hanno fatto alcun tipo di preingaggio quindi eh prima di inviare un messaggio come anche un invito una richiesta di collegamento a un tuo potenziale cliente supponiamo eh fai un'attività di preingagement e di preriscaldamento entra nel loro radar di attenzione quindi interagisci tu nel loro post vai sul loro profilo eh puoi magari scrivere un commento anche su una reazione magari un contenuto che loro hanno pubblicati un'altra modalità soprattutto se vuoi mandare una richiesta di collegamento a un decision maker collegati con altre persone nella loro azienda e interagisci ingaggia con i loro post il terzo punto pubblica sul tuo profilo post articoli che siano interessante o rilevante per loro dove loro possano trovare un beneficio un riscontro immediato un'applicazione un vantaggio è un vantaggio immediatamente applicabile quindi non inviare messaggio a freddo fa in modo che le persone abbiano già letto e capito chi sei magari sono andate a visitare il tuo profilo perché hai lasciato un commento sul loro post o anche una reazione o magari scoprono che anche se loro non ti conoscono direttamente tu sei già in collegamento con molti dei loro colleghi o con alcune persone che loro conoscono bene terzo punto stai usando solo messaggi testuali la quasi totalità dei messaggi che ricevo quindi in questo caso non sto parlando di chiesto di collegamento ma di messaggi di follow up messaggio per approfondire la conversazione messaggi per mantenere di la relazione con i tuoi con i tuoi clienti con i tuoi interlocutori ecco la maggior parte dei messaggi sono messaggi tipo testuale quindi diventa più creativo diventa più originale diventa più come dire versatile prova sperimenta lascia dei messaggi audio anche breve di pochi secondi sia audio che video quindi quando sono le occasioni per come dire mandare un messaggio su linkedin appena una persona ha accettato il tuo invito magari non appena ma qualche giorno dopo oppure per mandare un messaggio di ringraziamento a una persona che ha accettato il tuo invito oppure per condividere un contenuto di valore per esempio un articolo un post sul linkedin una risorsa eccetera questo ti permetterà di qualificarti ai loro occhi di diventare un punto di riferimento una risorsa di fiducia ma potresti mandare anche un breve messaggio anche audio per congratularti per una promozione per un lavoro di compleanno per un traguardo che la persona raggiunto eccetera oppure potresti mandare un messaggio per illustrare un contenuto inviato per esempio hai mandato un video in cui è fatto un analisi magari o hai fatto una descrizione aggiuntiva di un'offerta di un progetto di un powerpoint di un documento che avevi condiviso oppure abbiamo detto per fissare e confermare un appuntamento quindi stai usando i messaggi in maniera creativa o comunque in maniera strategica e vediamo alcune risposte solo raramente credo di sì non saprei ho definito una strategia o metodo per i messaggi quindi provate a rispondere gli ho messo alcune opzioni solo tre credo di sì non saprei definito strategia e metodo quindi quant'è alta e chiara la consapevolezza in te che stai utilizzando messaggi in in maniera strategica allora allora qui c'è anita che sta facendo la domanda che poi ora lo vedrà nelle slide anita quindi abbi fiducia ok ancora un attimo prima di terminare il sondaggio ok terminiamo il sondaggio quindi stop vediamo condividiamo risultati allora non saprei cinquantacinque per cento ho definito strategia e metodo 25 per cento credo di sì quindi abbastanza abbastanza positivi siete abbastanza consapevoli e comunque magari avete già definito una strategia o comunque seguite alcune best practice vediamo cinque p per il tuo messaggio ideale cortese polite professionale quindi tono di voce linguaggio pertinente quindi rilevante e quindi significa vicino ai bisogni al settore alle criticità tipiche del settore del tuo interlocutore ma anche personalizzato e come dire fraisful quindi come dire ricco di grazia no potremmo potremmo dire quindi gentile in qualche modo allora prima di capire come scrivere dei nostri messaggi come personalizzare come rendere efficaci i nostri messaggi privati su linkedin chiediamoci quando inviare per esempio richieste di collegamento e per fare questo devo fare una piccola digressione sul mondo inbound e outbound e in realtà inbound e outbound non sono in contraposizione ma sono complementari quindi quando parliamo per esempio di social selling noi possiamo lavorare in ottica inbound ovvero attirando potenziali clienti sul nostro profilo linkedin come attraverso l'ingaggio andando a commentare i post per esempio di influenze dei settori facendoci vedere pubblicando nei gruppi trasformando il nostro profilo in una calamita ok e questo ci permetterà di ottenere richieste di collegamento persone che ci scriveranno che ci manderanno delle mail e quindi riusciremo ad attirare a trasformare come dire il nostro profilo in una calamita per nuovi clienti ma ovviamente non ci possiamo limitare a questo anche se già come dire una strategia di inbound è uno degli elementi fondamentali per sviluppare il nostro brand professionale per costruire il nostro network per sviluppare dei contenuti magari siamo passati una modalità creatora che siano in grado di essere considerati rilevanti ispirazionali ingaggianti informativi per i nostri i nostri lettori ideali non se il cliente ideale ma come dire non possiamo limitarci a questo dobbiamo pensare anche a come sviluppare un flusso di attività una sequenza di attività che ci porti a trovare i nostri interlocutori chiave su linkedin io parlo di prospect ma necessariamente non necessariamente questo concetto si applica solo ai professionisti delle vendite o ai venditori o ai key account manager quindi trova i tuoi interlocutori chiave su linkedin ingaggiali istruiscili crea condividi contenuti di valore trasformano in potenziali clienti in questo caso converti i tuoi lead in clienti quindi parlando di inbound il primo step è la visibilità quanto è facile per un tuo potenziale cliente trovarti su linkedin hai ottimizzato il tuo profilo per le parola chiave quanto i tuoi contenuti la tua struttura invita la persona approfondire a capire meglio chi sei e quindi qui parliamo di funnel inbound su linkedin quindi fatti trovare renditi visibile su linkedin rende il tuo profilo interessante per il tuo interlocutore chiave ovvero il tuo cliente ideale pubblica e condividi contenuti utili e trasforma i tuoi contatti in clienti su questo poi ora non è l'argomento principale non è il cora di questo di questo webinar quindi ovviamente è importante aver definito delle metriche dei chi piai dei chi performance indichetto e poi abbiamo invece il processo di nartoring di outbound di come dire strategia per fare prospecting quindi fai una ricerca di potenziali clienti interagisci ingaggia con loro connettiti coltiva la reazione fa il nartoring e alla fine genera un appuntamento questo è il classico processo che io racconto che io spiego con alcune varianti ovviamente doverosi approfondimenti durante i miei corsi quindi vediamo quanto sono importanti i messaggi quanto sono strategici messaggi eh in questo processo invia una richiesta di collegamento qui vedete tra parentesi tonde personalizzata vedremo quindi quando e se è sempre opportuno inviare aggiungere una nota al nostro che al nostra richiesta di colgamento invia un messaggio di benvenuto comunque invia un secondo messaggio di follow up eh potrebbe essere anche non testuale potrebbe essere un messaggio audio un messaggio video e invia uno più messaggio per costruire la relazione infine invia un messaggio per passare una conversazione offline per proporre anche solo una video call oppure un appuntamento telefonico o una lista di persona quindi questi sono gli step fondamentali che eh come dire costituiscono la nostra il nostro flusso di un nostro workflow eh il nostro processo di nartoring dove è importante anche il corretto cadenziamento quindi far passare un intervallo opportuno per non aggredire soffocare non dare questo senso di ansia ovviamente o di eh come dire invadenza eh verso il nostro interlocutore quindi fai passare un po' di tempo cadenza a questi messaggi da richiesta di collegamento al messaggio di benvenuto per stabilire l'apporto a un messaggio per rafforzare la relazione fino a un messaggio per spostare la conversazione eh come dire offline quindi quando parliamo di inbound parliamo anche di come dire capacità di identificare di analizzare i segnali di interesse mentre quando parliamo di outbound parliamo proprio di questo flusso quindi vediamo per esempio l'inbound quindi qual è la strategia di inbound accogli segnali di interesse eh analizza monitora chi ha visitato il tuo profilo potresti decidere di inviare una richiesta di collegamento ai visitatori rilevanti in target che corrispondono alle caratteristiche delle persone che stai cercando con cui desideri entrare in contatto con cui desideri avviare delle conversazioni. Secondo segnale interessante è chi è diventato un tuo follower? Eh monitora anche questo aspetto magari sono persone che corrispondono ancora una volta al profilo di un tuo potenziale cliente eh fa il follow back cosiddetto cioè comincia a seguire anche tu questa persona magari poi ingaggia questa persona quindi vai a vedere cosa ha scritto interagisci con i suoi contenuti vedrai che dopo aver avuto questi due o tre interazioni sarà molto più facile che la persona accetti il tuo invito. Eh terzo segnale chi è interagito con i tuoi post quindi vai a vedere sui tuoi post la tua attività e verifichi ancora una volta se tra in questo caso le reazioni che hai ottenuto i commenti che hai ricevuto eh ce ne sono alcune di persone di secondo o terzo livello persone che con cui ancora non sei connesso e che varrebbe la pena quindi di eh invece aggiungere altro network. Quindi potresti inviare mandare un richiesta di collegamento facendo riferimento ringraziando il fatto che hanno commentato hanno apprezzato il tuo post eh e questo è sicuramente un conversation starter cioè un modo per rompere il ghiaccio per da una parte mostrare interesse attenzione e gratitudine in questo caso e anche per eh favorire poi l'accettazione delle richieste di collegamento ma potresti anche eh andare a vedere chi sta creando post rilevanti per il tuo settore cioè chi quel in questo momento magari nell'ultimo mese pubblicato dei contenuti eh che magari a loro volta hanno attirato dei potenziali clienti o interlocutori chiave quindi monitora fare una ricerca per post vedete io sto cercando ora un una parola chiave specifica se vuoi anche di nicchia scopro le persone che hanno pubblicato dei contenuti usando quelle parole chiave vado a vedere innanzitutto cominci a seguire questa persona perché magari potrebbe essere una persona che mi interessa a mettere il mio network con cui magari sviluppare delle parti cifre delle sidergie o perché no delle collaborazioni o eh o comunque potrebbe diventare un mio cliente o comunque una persona interessata ai temi che io o la mia azienda eh presidiamo o dominiamo e poi potrei andare a vedere anche chi ha interagito con i contenuti di questo influencer o di questa persona particolarmente attiva e preparata e che pubblica post rilevanti su un tema come dire attinente al mio business a quello della mia azienda analogamente costruiremo una sequenza di messaggi per il processo di outbound eh come lo possiamo definire il nostro processo abbiamo detto identifica le persone giuste quindi identifica il profilo del nostro cliente ideale è ruolo settore appartenenza un'azienda magari eh collocata geograficamente in un posto specifico in un'area specifica magari con un certo numero di dipendenti con un certo fatturato e così via poi prima identifica quindi le persone giuste perché parla naturale perché in un approccio account based marketing sappiamo che noi dovremo avviare una conversazione non solo con una persona ma con cinque, sei, sette, in alcuni casi anche più di dieci persone all'interno della stessa azienda quindi identifica le figure chiave potrebbero essere decision maker coloro che prende la decisione di firmare il contratto eh le figure più interessate alla tua soluzione al tuo prodotto alla tua consulenza perché ne userai ne utilizzeranno saranno i primi beneficiari della tua soluzione quindi in questa seconda eh categoria che sono gli influenzatori interne del processo di acquisto poi ci sono magari champion quindi le figure che già ti conoscono con cui sei già collegata che possono in qualche modo farti da prepista da cavallo di troia possono introdurti ad altre persone possono diventare degli advocate interne dei sostenitori interne della tua casa e infine ci sono i mirror che sono coloro che ricoprono il tuo stesso ruolo all'interno appunto della dell'azienda target quindi prima di dare richieste del collegamento fa un'attività di pre engagement di preriscaldamento per esempio andando a monitorare i post pubblicati da queste persone e scrivendo dei commenti significativi dopo che hai fatto questa attività puoi mandare richieste di collegamento possibilmente personalizzato poi manderai un messaggio di follow up poi approfondirei costruzione e costruirai e quindi rafforzerai la relazione attraverso uno più messaggio in cui tipicamente condividerai del valore infine convertiti e genera un appuntamento in questo caso tipicamente in un contesto business to business quindi vedete trovo il tuo prospect invia richieste di collegamento sia inbound per esempio a chi ha guardato il tuo profilo che ha apprezzato un tuo post ma ovviamente anche il lavoro è notica inbound a partire dai collegamenti del secondo livello invia un messaggio di benvenuto e qui fa eleva sulla prossimità sociale sui collegamenti in comune interesse in comune eccetera eccetera poi vedremo come personalizzare a questo punto di vista un messaggio di benvenuto invia messaggi per costruire la relazione quindi contenuti terze parti contenuti proprietari contenuti che tu hai in qualche modo salvato nella tua come dire content library a cui farai riferimento a cui attingerai per dimostrare la tua expertise per come dire offrire veramente un contenuto di valore utile durante il come dire processo di approfondimento di acquisto del tuo interlocutore per poi arrivare abbiamo detto all'ultimo messaggio con una richiesta di appuntamento telefonico oppure magari con l'offerta di un servizio o di una sessione online vedete il primo messaggio la richiesta di collegamento che di fatto il primo touch point reale eh personale privato con il nostro interlocutore sarà un messaggio testuale e vedremo come personalizzarlo il secondo messaggio potrebbe essere a volte quasi auspicabile usare un messaggio audio il terzo tipologia di messaggio potrebbe essere anche un messaggio video con cui noi condividiamo un contenuto di valore magari anche una pillola di un video come per esempio questo webinar da cui io potrei creare n pillole e condividerle per esempio come terzo quarto messaggio attraverso questo processo di nurturing perfine per arrivare poi a una proposta di appuntamento ancora una volta utilizzando non solo il formato testuale ma anche l'audio o il video vediamo quattro differenti messaggi su linkedin questa tabella poi dopo la vedremo quindi abbiamo parlato di noi chiesto di collegamento con un nota l'obiettivo è far accettare il nostro invito eh questo dopo una settimana di preriscaldamento poi seguirà un messaggio di follow up per costruire il rapporto dopo qualche giorno dall'accettazione dell'invito uno più messaggi per costruire la relazione quindi per guadagnare fiducia poi abbiamo detto un messaggio per fissare un rapportamento qui trovate altri elementi strategici che sono il timing quindi quando inviare un primo messaggio o uno degli altri messaggi che tipo di formato di lunghezza è preferibile che abbia ma in realtà non ci sono altre occasioni come dire un demand in cui noi tipicamente mandiamo un messaggio su linkedin al nostro interlocutore eh potrebbe essere un messaggio di approfondimento che possiamo usare per capire decidere se accettare o no una richiesta di collegamento che ci è arrivata quindi un invito che ci è arrivato quindi quando per valutare una richiesta di collegamento in ingresso noi anziché decidere subito se accettare o rifiutare potremmo inviare un messaggio di eh approfondimento oppure un messaggio per richiedere una presentazione a un collegamento in comune quindi ti permette di farti conoscere grazie alla presentazione da uno dei tuoi collegamenti questo quando noti un forte legame con una persona che a sua volta è fortemente collegato a una sua un'altra persona eh tu puoi chiedere il collegamento condiviso se ti può fare da introduzione da presentazione se ti può presentare il suo collegamento quindi è una sorta di introduzione a caldo una warm introduction come come dicono gli americani e poi un messaggio per richiedere una referenza per esempio in fondo ad un progetto ultimato un cliente felice una consegna fatta con successo con soddisfazione quello è il climax ideale per chiedere a un tuo collaboratore a un team member a un cliente di eh lasciare una traccia un buon ricordo di quell'occasione di quell'episodio di quel progetto scrivendoti una testimonianza sul tuo profilo eh quindi queste sono come dire quando è importante personalizzare il tuo messaggio e qui vediamo eh le richieste di collegamento ci possono essere in alternativa le email quando vediamo che eh l'utente è poco attivo è poco presente sul link ed è un profilo scarno è difficile riuscire a personalizzare il messaggio è difficile immaginare che la persona possa eh come dire aiutarti a creare qualcosa di originale e significativo allora puoi usare come alternativa la email e poi vediamo la dimensione massima degli altri messaggi che possiamo mandare allora parliamo di questi tre differenti messaggi come dire on demand eh e poi rivediamo tutto il il flusso del messaggio legato ai cinque step outbound allora invia un messaggio di approfondimento questo avviene quando noi non sappiamo decidere se accettare o non accettare un invito quindi andiamo sulla gestione degli inviti vedete received people qui ho ventisette inviti ancora in sospeso posso eh scorrerli e posso fare alcune considerazioni questo il primo è un invito senza nota aggiuntiva quindi cosa posso capire di lui che è un designer che è collegato a Ivan Hortensi che magari è una persona che conosco e che stimo e quindi in qualche modo potrebbe essere interessante io cosa posso fare posso andare a scoprire qualcosa di più di Luca vado sul suo profilo e eh potrei anche decidere di inviarvi un messaggio di approfondimento nel dubbio il mio consiglio è mandato un messaggio di approfondimento eh come potrebbe essere questo messaggio buongiorno Luca grazie per il suo invito dato che non la conosco e questo è vero per approfondire il motivo per cui ho deciso di invitarmi quale possibilità di scambio di informazione nel tuo organo di collaborazione professionale intravede rimango in attesa di sapere più da lei quindi in qualche modo io chiedo alla persona di come dire mettere mettere a terra le carte eh svelare il suo mistero l'obiettivo il perché mi ha inviato la richiesta di collegamento e tipicamente quando partiamo in questo modo professionale se vogliamo anche selettivo magari circa il venticinque trenta per cento delle persone non risponderà alla nostra richiesta di approfondimento quindi lascerà cadere di fatto la loro richiesta di collegamento la seconda casistica interessante è quando noi decidiamo di non inviare subito una richiesta di collegamento a un collegamento di secondo livello ma decidiamo di valutare se tra i collegamenti condivisi c'è una persona con una con cui abbiamo una grande familiarità a cui possiamo chiedere il favore la cortesia di essere introdotti quindi facciamo partiamo da zero facciamo una ricerca supponiamo marketing manager tra i miei collegamenti di secondo livello ottengo un certo numero di persone vado sulla prima vedete che c'è scritto le persone condivise con vittorio mencio sono diverse persone quindi io clicco e vedete scopro le persone che sono collegamenti di primo livello eh di vittorio e che per me risultano di secondo livello quindi alcune di queste persone eh che conosco anch'io eh tra quelle appunto filtrando scusate di primo livello quindi che sono condivise con me potrei dire ok Alessandro Ruggero lo conosco bene ha già ancora molte condivisioni con me come relazioni potrei chiedere Alessandro se conosce vittorio se me lo può eh presentare ok quindi come potrebbe essere questo messaggio eh comincia a scrivere la tua cosiddetta richiesta l'introduzione ecco gli elementi salienti perché ti stai rivolgendo proprio a questa persona perché quindi io mi sto rivolgendo abbiamo detto proprio ad Alessandro ciao Alessandro mi rivolgo a te perché vedo che da molti anni sei collega eh di Vittorio e ehm ho visto che Vittorio ha cambiato recentemente lavoro si sta occupando di eh team commerciale in Vodafone come sai ho lavorato eh in Vodafone diversi anni e ho sviluppato una mia metodologia di social selling che credo possa essere applicabile al settore dell'elettro comunicazione eh non mettere sotto pressione te lo chiedo solo se questo non ti arreca disturbo e naturalmente sei disponibile di cambiare il favore mi raccomando se vedi qualcuno all'interno del mio network a cui vorresti essere presentato non esitare a chiedere me lo ti ringrazio in anticipo questi sono i cinque elementi cardine per strutturare un messaggio per richiedere una presentazione eh ovviamente poi bisogna trovare l'opportunità l'occasione non sempre riusciamo a trovare questa opportunità e allora svilupperemo il nostro approccio eh come dire soft in cui prima faremo un'attività di riscaldamento di pre engagement poi invieremo richieste di collegamento magari non direttamente decision maker per poi arrivare a eh sviluppare la nostra sequenza di messaggi privati il terza casistica di un messaggio come dire fuori dal processo outbound è quella di eh all'interno di un progetto andare sul profilo di una persona che magari ha incontrato in questo caso per durante un corso e ehm cliccare sul more o su altro sul bottone altro nel profilo e selezionare eh request recommendation oppure e chiedi una referenza personalizza il tuo messaggio quindi non lasciare alla persona come dire eh l'onere la bega la difficoltà di scrivere da zero un messaggio ma aiutala magari ricordandoli l'episodio in questo caso il corso che abbiamo fatto quindi chiede alla persona per esempio di scrivere la testimonianza su un episodio un progetto un corso aiutala a semplificarle come dire il lavoro di redazione della della testimonianza della referenza aiutala a scrivere il testo questo è fondamentale così come è fondamentale il timing quindi non lasciare troppo tempo prima di chiedere una referenza e l'altro punto chiave è la reciprocità quindi potresti cominciare tu a scrivere una referenza a favore della persona da cui la potresti ricevere quindi vediamo ora il processo che ci porta dalla la connessione fino alla conversione e quindi riprendiamo il nostro schema abbiamo visto eh quindi eh il primo messaggio è la richiesta di collegamento eh vediamo alcune eh statistiche quando le persone hanno visto il tuo nome almeno tre volte eh prima di ricevere la tua richiesta di collegamento otterrai un tasso di accettazione tre volte superiore quindi abbiamo detto è molto importante questa fase di preingaggio per entrare nel radar di attenzione per queste persone per fare in modo che la tua richiesta di collegamento non risulti a freddo ok quindi evita in tutti i modi questo ehm il fatto che la persona percepisca di aver ricevuto una richiesta non sollecitata non prevista dalla persona che non conosce vediamo altre statistiche che il 72 per cento di richieste di invito non personalizzate viene accettato quindi sfatiamo il luogo comune che solo le richieste di collegamento con nota aggiuntiva vengono accettate d'altra parte il tre solo il 34 per cento delle richieste quindi circa un terzo delle richieste poco personalizzate viene accettato mentre l'ottantaquattro per cento delle richieste personalizzate di qualità dove c'è stata veramente una ricerca viene accettato tasso medio di risposta un'email ancora una volta più o meno a freddo è del sei per cento quindi ovviamente più bassa ma comunque superiore al tasso di apertura di una demma eh quindi eh ancora una volta poi dovremmo mettere a confronto l'email probabilmente o una direct email quindi da queste statistiche emerge che o riusciamo veramente a trovare una modalità per personalizzare con intelligenza con cura la nostra richiesta di collegamento senza fare un copio in paste sempre a fare un copio in colla da eh come dire altri messaggi allora probabilmente otterremo maggiori risultati il mio sondaggio su LinkedIn è ancora in corso se volete andare sul mio profilo lo vedete ancora attivo eh il quarantanove per cento ha detto cerco sempre di farlo e se vogliamo anch'io faccio un po' un po' parte di questa scuola anche se mi rendo conto che non è detto che sia sempre la soluzione più pratica diciamo quella più efficiente eh quando inviare una richiesta di regolamento senza noto probabilmente eh se la persona ti conosce bene per esempio io sono stato due giorni in aula con venti persone abbiamo fatto un corso magari in diretta mentre anche da mobile eh magari ci mandiamo una richiesta di collegamento senza noto quindi la la persona o la conosci bene la frequenti magari da tempo oppure la conosci poco ma l'hai incontrata di recente e magari ci ha passato diverse ore come per un corso o comunque la tua reputazione il tuo trust eh è così forte potremmo dire il tuo personal brand è così forte che tra virgolette non hai bisogno di presentazione anche se a mio avviso è sempre preferibile aggiungere una nota per specificare soprattutto se questo avviene non durante un corso vis-à-vis quando siete tutti in aula anche da remoto quando vi siete conosciuti come hai trovato questa persona su LinkedIn e perché desideri connettersi con questa persona queste due domande sono molto importanti perché poi le persone si chiedono come mi ha trovato questa persona come mi ha scoperto perché desidera connettersi con me allora tornando in un discorso come dire business to business dove potremmo utilizzare un approccio account based marketing quindi se desideri avviare relazioni e con più persone della stessa azienda e vedete mediamente sono più di una persona 7,4 le persone coinvolte in un processo di acquisto business to business il mio suggerimento è quello di adottare una strategia di collegamento che parta dal basso ovvero non invitare subito decision maker ma invita prima le persone come te quelle che ricopre il tuo stesso ruolo i mirror con i champion dovresti essere già connesso quindi magari manda un messaggio ai champion poi invita l'influencer sempre in modalità personalizzata e sicuramente ancora più importante la personalizzazione per il decision maker quindi abbiamo detto cerca di inviare mai richieste di collegamento a freddo pre-ingaggia vai sul profilo questa persona leggi i post e aggiungi un commento magari con una frase che anticipi la tua futura richiesta di collegamento quindi visita il profilo comincia a seguirlo attiva la campanella abbiamo detto legge interagisci con i suoi post una nota aggiuntiva mi avviso dimostra cura attenzione rispetto considerazione caring e quindi aumenta non solo da un punto di vista numerico la il tasso di accettazione se abbiamo detto la personalizzazione è forte con di gente approfondita rilevante ma come dire si sta ora subito un buon rapporto professionale qualificato con la persona stessa cosa le persone pensano quando riceve una tua richiesta il primo punto è conosco questa persona vedo elementi in comune o valore aggiunto mi aspetto di ricevere subito un follow up commerciale a questa persona perché vedo che un commerciale vado sul suo profilo comincio a scansionare alcuni elementi dall'intestazione l'immagine line c'è qualcosa di rilevante per me poi se supero questo primo step vado a leggere quello che scrive questa persona e poi decido in base ai contenuti che vedo sul suo profilo se accettare rifiutare o ignorare l'invito questo è un po il processo logico quindi abbiamo detto le due domande chiave che fanno le persone conosco questa persona perché desidera conmettersi con me quindi prova a rispondere a queste due domande nella tua nota aggiuntiva nel tuo invito personalizzato vediamo cinque ganci per farlo abbiamo detto il primo leggi vai sul profilo della persona leggi gli ultimi post e commenti del prospect quindi vai sull'attività qui sono sul profilo di tommaso moraca un collegamento secondo livello vedete venture capital eccetera clicco su post guardo gli ultimi post pubblicati vedete gli ultimi sono abbastanza datati tre mesi fa eccetera altro punto di interesse da cui trarre ispirazione per personalizzare l'invito la sezione in primo piano quindi praticamente le persone mettono magari traguardi raggiunti una presentazione che hanno fatto un video magari di successo un posto di cui sono orgogliose vedete questo è un posto che aveva avuto 50 commenti 50 reazione 5 commenti quindi parti dalla sezione in primo piano oppure ricerca un elemento in comune gli elementi in comune quella che chiamiamo prossimità sociale sono relative alle persone alle esperienze professionali o agli interessi interessi che possono essere espressi in termini di appartenenza di gruppi corsi certificazioni skill vedete entrambi noi abbiamo studiato al politecnico di villa di milano e abbiamo ben 52 collegamenti in comune quindi questi sono due elementi il primo basato sulle persone secondo in qualche modo basato su un un diciamo un profilo accademico con una tappa importante quindi molti collegamenti in comune stessa business school se ancora non trovo ispirazione per personalizzare il mio invito vado sulla pagina aziendale cerco di trovare degli spunti leggendo i post più recenti magari in alcuni posso trovare un commento di questa persona o un post che cita questa persona infine possa andare a leggere la sezione news il blog se esiste nel sito web aziendale ancora una volta potrei trovare un articolo di interesse questa di questa persona magari che lo stessa persona ha affermato come autore all'interno del blog quindi abbiamo detto fattori che abbiamo in comune prossimità sociale qual è il livello di attività della persona e altri fatti che sono accaduti recenti nella sua vita per esempio un cambiamento di lavoro quindi potresti personalizzare il tuo messaggio tenendo conto di questi elementi eh la comunanza gli interessi reference eh magari è stato citato da un tuo collegamento l'azienda è stata citata come migliore azienda nel settore perché ha vinto un premio eccetera eh e qui vediamo vedete come possiamo personalizzare il nostro invito rispetto a queste quattro categorie comunanza quindi abbiamo frequentato la stessa università abbiamo colleghi in comune in particolare potresti citare un collega interesse in comune gruppi skill corsi referenze ancora una volta collegamento in comune conferme di competenza visto che hai ricevuto una conferma o una referenza da una persona che conosco molto bene oppure cogliere quel momento eh quel trigger di cambiamento di lavoro di promozione eccetera di nuovo ruolo in azienda per personalizzare il tuo invito con stessa navigator grazie agli hotspot eh agli spotlight che sono dei filtri dinamici che puoi utilizzare con un stessa navigator puoi scoprire chi ha cambiato lavoro chi è stato citato nelle notizie chi ha postato negli ultimi trenta giorni chi condivide esperienze con te in termini di appartenenza a gruppi stessa università stessa azienda in passato chi segue già la tua azienda chi è già un follower della tua pagina linkedin e quindi puoi captare cosiddetti social trigger per personalizzare abbiamo detto ancora una volta in questo caso il primo punto di contatto la richiesta di collegamento un altro tema importante è quando funzionerebbe meglio la email anziché le richieste di collegamento quando inviare una richiesta di collegamento sicuramente quando ho davanti una persona che attiva su linkedin che è un profilo curato dove c'è magari molti elementi in comune quindi io faccio poca fatica facilmente troverò un punto di contatto con cui personalizzare il mio invito quando invece non trovo tutto ciò la persona è poco presente poco attiva un profilo linkedin scarro non curato o pochi o zero elementi in comune ma comunque urgenza di contattare questa persona perché la considerano l'idea importante allora invierò una email qui vedete questa diagramma presenza questa questa matrice presenza utilizzo di linkedin se elevata tipicamente posso mandare una chiesta di collegamento più o meno forte più o meno push oppure e oppure se la presenza è molto bassa ma è l'idea importante manderò una email mi sono divertito a fare un esperimento con chat gpt che sto usando e allora per esempio scritto vorrei inviare una chiesta di collegamento personalizzata sul link è un potenziale cliente un marketing manager di un'azienda b2b che ho identificato che si occupa di assemblaggio e raccordo tu il profilo linkedin potenziali clienti che a che desidero invitare è questo agisce come se fossi me leonardo bellini il mio profilo linkedin è il risultato è stato a fa niente ha fatto male dice ho avuto l'opportunità di apprendere una notizia confidenza grande rispetto importanza del lavoro credo che ci siano molto opportunità per la sinergia sarebbe un piacere per me le opportunità quindi anche se ovviamente non entra in un dettaglio estremo però comunque è un contenuto gradevole professionale che mostra comunque su un garbo quale potrebbe essere la risposta alla domanda perché dovrei accettare il tuo invito perché mi dovrei connettere con te ok quindi è comunque un esperimento che consiglio di fare arriviamo al secondo messaggio non inviare vediamo cosa non fare otto modi per bruciare la tua richiesta di collegamento vedo che sono già le tre cinquanta però magari taglierò la parte del video ci tenevo però a finire questa parte quindi inviare un messaggio di follow up cinque minuti dopo troppo presto inviare una video call come prossimo step del processo se non è personalizzata il video è un rischio dire grazie poi far seguire il tuo messaggio commerciale ovviamente un errore chiedere islarti subito quali sono le più grandi sfide bisogni troppo presto inviare un link un articolo che devono assolutamente leggere vi sarà capitato questo tipo di messaggio è ancora una volta sbagliato se è ancora una fase di costruzione del rapporto la persona deve deve ancora guardare la fiducia di questa persona visitare il loro profilo in forma anonima anzi invece è un segnale di interesse che rafforza il fatto che la persona ha accettato il tuo invito o chiedere subito chi della tua azienda è responsabile di o inviare loro un video messaggio abbiamo detto senza personalizzazione cosa dovremmo fare un messaggio di follow up a dire grazie per aver accettato la nostra ricerca del pubblicamento spiegare la ragione per il tuo contatto e assicurati che riguardi loro e non te quindi cita i contenuti che hanno pubblicato i traguardi che hanno raggiunto i progetti che sono attivi nella loro azienda presentati in breve a livello personale con un messaggio promozionale soft ancora non è tempo per vendere non parlare ancora dei tuoi prodotti ma parla delle tue competenze delle tue conoscenze e aggiungi valore offri di condividere una ricerca un'alpepe un articolo eccetera spiega come questa risorsa ha contribuito al successo di altre infine chiedi se vuoi che ti invii questa risorsa quindi non la mandare direttamente non inserire direttamente un link o un attachment all'ebook con l'ebook in attachment ma chiedi il permesso quindi l'obiettivo ancora è quello di avviare una conversazione quindi l'obiettivo del secondo messaggio soprattutto se la persona non ha risposto alla accettato la tua richiesta del collegamento ma non ha scritto niente allora sarà compito tuo mandare un messaggio per favorire il dialogo l'avviamento del dialogo questo è il vero obiettivo del secondo messaggio come attraverso una una domanda non invasiva su qualcosa che ha letto sul suo profilo che lui ha pubblicato su qualcosa di personale un cambiamento di lavoro su qualcosa che potrebbe riguardare la sua azienda ecco questo aiuta la persona a rispondere per esempio con facilità su un tema che lui sta a cuore o su un argomento di cui lui è fiero aver contribuito al successo della sua azienda ok oppure fai riferimento a qualcosa che in comune ho scoperto neanche tu sei un rotariano da quanto tempo sei associato faccio una domanda facile la risposta semplice ma a che attiene alla sfera non solo professionale ma anche personale di questa persona oppure posso fare riferimento a un posto che lui ha scritto e fare una domanda come vedi che si sta rivolgendo la leadership per tempo del coronavirus dello smart working quindi fai riferimento al suo posto ancora un suo posto gli mostri pure interesse oppure fai riferimento al successo ottenuto dalla sua azienda ho visto che la vostra azienda ha ottenuto quella commessa ha vinto quella gara ha avviato quella collaborazione in che modo sei stato coinvolto in base al tuo ruolo eccetera oppure fai riferimento a un evento magari è una communication manager un event manager una persona che si occupa di risorse umane ha fatto un'attività di team building fai riferimento a un evento aziendale ecco puoi adottare quattro cappelli quattro approcci l'intervistatore abbiamo detto quindi fai delle domande non invasive il cronista fai riferimento a eh news evento i fatti d'autorità che lo possono riguardare il networker ehm come dire renditi disponibile per presentare a questa persona un tuo collegamento il broadcaster potresti creare un video personalizzato arriviamo al terzo messaggio che è quello per con cui cominciamo a costruire la relazione guadagnare la fiducia adotta un approccio per mission based quindi non inviare contenuto subito abbiamo detto chiede al prospero se decidere di riceverlo il tuo obiettivo è posizionare il tuo contenuto come se fosse desiderato da lui come se fosse richiesto da lui quindi ancora una volta un esempio parlo con molti non so business manager come te la maggior parte di loro mi dice che è qui può inserire un problema fanno fatica a sviluppare un network di qualità oa condividere contenuti o far fluire le informazioni e processi decisionali fluidi all'interno dell'azienda o una risorsa a cui potresti essere interessato è come favorire l'engagement in azienda questi sono i benefici che non otterrai vorresti che te le inviassi qui su linkedin inema potresti offrire una una checklist un ebook eh un contenuto quindi che reputi di valore ovviamente devi aspettare che la persona ti confermi il suo interesse se la persona ti dice sì ovviamente puoi dire ti ho allogato per te questa risorsa trasforma il tuo articolo il tuo blog post in un documento pdf perché viene percepito di maggiore valore rispetto a un link se la persona dice di no deve avere la pazienza di aspettare magari farti poi sotto con un altro messaggio dopo almeno quattro settimane quindi vediamo se ho inserito questo sondaggio stai usando l'approccio per mission based quindi stai chiedendo alla persona il tuo interlocutore il permesso prima di condividere un contenuto ok vediamo ancora qualche 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 attimo ok vediamo le risposte non lo conoscevo ok 46 per cento a volte spesso sempre quindi mi fa piacere se avete imparato qualcosa di nuovo comunque un differente punto di vista per arrivare poi al messaggio che ci serve per la conversione in questo caso l'obiettivo di spostare la diciamo la conversazione offline o comunque attraverso appuntamento telefonico uscire fuori da linkedin potremmo dire e posizionare l'appuntamento che non deve essere ancora una volta un pitch commerciale dove ti vende un prodotto ma deve essere una telefonata esplorativa di pochi minuti che fa capire che tu conosci molto bene il loro settore i loro problemi dove puoi anticipare già i benefici che ne otterrà solo da questa telefonata da questa colla di pochi minuti quindi la chiamata dovrebbe essere 15 minuti al massimo 30 minuti posiziona la call come esplorativa di prequalificazione quindi approfondiremo solo se deciderai che ne vale la pena quindi fai capire che la persona a lui il comando e poi proporre appunto approfondimento telefonico oppure una col su zoom e qui è importante già dare degli orari specifici a me andrebbe bene martedì mattina alle nove l'alternativa giovedì adesso dai sempre almeno due due alternative e questo appunto è uno script alla fine per confezionare questo messaggio per fissare un appuntamento allora torniamo a le motivazioni perché molto spesso le richieste di collegamento e non le richieste di collegamento i messaggi in generale non ottengono risposte vi mostro alcuni esempi di note aggiuntivo quindi richieste di collegamento personalizzate che ho ricevuto buongiorno leonardo visto dal suo profilo che si occupa di tematiche relative al marketing beh un po vago che genere di marketing da quanto me ne occupo con quel ruolo con quale cappello e per questo motivo vorrei aggiungere la mia rete di collegamento mi dispiace william non è questo un buon motivo buongiorno leonardo sono ilaria e qui si presenta lei le scrivo per condividere il nostro week case ma io non l'ho richiesto quindi mi dovrebbe prima chiedere se sono interessato a questo genere di argomenti se mi interessa la casa per esprimere eccetera infatti poi dice se l'interessa la condivido il link però di fatto tu mi stai prima tenendo un collegamento quindi stai bruciando le tappe buongiorno ho studiato attentamente il suo profilo quindi lei in qualche modo ci tiene a dirmi che attentamente ha studiato il suo profilo e ha fatto pure un'analisi della realtà in cui opera attualmente e avrei delle importanti informazioni da condividere quindi questa è gioca sulla sul mistero un po sul blef prima di spiegare più nel dettaglio posso chiedere informazione ovviamente qui qui sono i miei commenti troppo vago troppo push sta chiaramente bleffando ancora buongiorno la vostra pagina aziendale ha tirato la mia attenzione però non mi dice perché ha tirato la mia attenzione e e questa è la conseguenza la consecuzione abbastanza bacata e poche mi occupo di software per la talent acquisition ma la mia pagina non parla di talent acquisition mi sembra una buona idea è ricollegarci un secondo sono anna char business partner la nostra azienda si occupa di quindi lei parla dei suoi prodotti di quello che fa lei interesse potrebbe approfondire beh chiede prima chiedemi cosa faccio di cosa mi occupo quali sono i miei bisogni quali sono le mie criticità ma ancora prima cerca di starare una relazione dove io intravedo un'opportunità di aggiornamento di scambio reciproco di informazione di crescita condivisa di sinergia non subito fammi un pitch commerciale o parla di non parlarvi subito del tuo prodotto a parlare dei miei problemi ok e quindi il primo lo stesso messaggio potrebbe scrivere a chiunque orientato su di lei ed è l'ultima leggermente risperata secondo me spera voglio accettare l'invito per avere maggiore informazione su 123 rf archivio di foto e contenuti e su design e su integrativa quindi lei parla di prodotti e disperatamente mi chiede di accettare il suo invito poi ho trovato altre persone della stessa azienda salve leonardo sono valeria business network di azienda specializzata per l'acquisizione liquidificata per le aziende b2b mi presi piacerebbe presentare il nostro nuovo servizio dedicato alle start up allora mi scrive io non sono evidentemente una start up e tra le mie skill e le mie competenze vi è un'attività di rigeneration per aziende b2b quindi stai scrivendo a un concorrente di fatto e non stai assolutamente mostrando di aver letto e aver capito chi sono e cosa faccio salve leonardo lo scrive anche francesco che lavora anche lei anche lui nella stessa azienda ma a differenza di valeria ha una p in più infatti developer mentre valere solo developer e praticamente scrive la stessa cosa quindi parla di loro non di te personalizza ricerca personalizza per ottenere più risposte puoi partire da una ricerca di base dall'analisi del profilo individuale una ricerca approfondita la pagina linkedin e poste aziendali una ricerca avanzata analizza profili e le attività degli altri colleghi le tre tipologie di messaggi abbiamo detto testo per la connessione per richiesto di colgamento voce come alternativa per sviluppare la relazione e i video anche come alternativa anche per completare la relazione allora parlando di messaggi vocali e poi finiamo quasi siamo quasi alla fine nel frattempo risponde ad anita credo di avere una slide poi magari te la venderò se tu mi manda una richiesta ricollegamento è possibile anche dall'app telefonica dalla mobile app di linkedin personalizzare il messaggio c'è un modo anita si tratta di andare sul profilo della persona andata fare tappa sui tre puntini orizzontali ad essere profilo e dal menu selezionare personalizza l'invito a quel punto puoi scrivere un messaggio personalizzato anche tramite la mobile app tornando ai nostri messaggi vocali perché è importante prenderne atto prendere visione perché ancora sono molto molto poco utilizzati quindi puoi creare con l'effetto sorpresa con l'effetto wow l'effetto stupore se sarai tra le poche persone che lo utilizzerà ancora il 94 per cento d'utenti linkedin non sta usando del 6 per cento che sta usando solo il quattro per cento lo fa in maniera costante in maniera sistematica quindi come funziona apriamo vai l'app di linkedin vai sul profilo anti collegamento qui sono sul profilo di anna eh vediamo se c'è anna collegata aveva detto che avrebbe fatto un salto eccola qua anna l'ho visto ciao anna eccola qua alzato anche la mano perfetto quindi eh nel momento in cui sviluppi una relazione personale ma può essere con un amico può essere con un prospetto un fornitore un cliente è sufficientemente attivare il microfono e parlare per al massimo 60 secondi meglio se fai un messaggio più breve magari attorno ai trenta secondi eh quindi dai tempo e dai una ragione linkedin all'inizio ti chiede anche un ok prima di inviare poi puoi anche dire non chiedere più l'ok e quindi come nel mio caso lascia direttamente il messaggio nella inbox del tuo destinatario alcuni suggerimenti fai pratica quindi è molto importante il tono di voce quindi il suggerimento registra il messaggio in piedi sorridi mentre parti e parli e cerca di tenere un tono di voce come dire squillante coinvolgente non non addormentato un po come sto cercando di fare io ora in questo momento sii breve eh non consumare quindi tutti i 60 secondi eviti di mandare due messaggi vocali di seguito eh assicurati che i tuoi messaggi che il messaggio riguarda il tuo destinatario non tu quindi parla di cosa puoi fare lui quali vantaggi avrà quali saranno i benefici quali saranno i risultati e così via quando usare i messaggi vocali o dopo aver inviato il secondo messaggio quindi quello di follow up tipicamente un messaggio testuale ma anche in altre occasioni per esempio quando è inviato un'offerta o dopo il contratto che è stato firmato può essere una forma più empatica di congratulazione di pacca sulla spalla di eh come dire eh bicchiere della staffa potremmo dire fatto in forma vocale molto più empatico ma anche lo puoi fare per gestire e arrivare la relazione con connessione che non senti da molto dal molto tempo o anche con eh come dire relazione generale con le persone che frequenti inclusi i tuoi clienti e poi abbiamo i messaggi video qui però ora salto perché vedo che sono già le 16 e 10 quindi vorrei lasciare spazio a domande e risposte eh quindi eh vediamo se qualcuno vuole alzare la mano oltre che Anna c'è qualcuno che vuole alzare la mano gli attivo il microfono così magari fa la domanda in diretta evita di scrivermela in ehm in chat altrimenti posso sentire io allora sentiamo Anita se vuole parlare se ha compreso la mia risposta Anita hai hai ascoltato la mia risposta? Sì ho capito la tua risposta grazie e siamo già collegati in realtà e poi ho capito perché io non ho attivato il microfono su LinkedIn o su Whatsapp o altre cose perché abitualmente non mi piace tanto lasciare i messaggi vocali ma questo è per una ho capito però in merito alla personalizzazione da mobile però la personalizzazione da mobile effettivamente non non lo sapevo perché di solito quando mi presenta i contatti e allora io faccio clic no devi fare un passaggio in più è semplicemente quello di andare hai visto poi nel menu c'è scritto personalizza l'invito in quel menu a licenza che c'è da mobile ma siccome dal telefono diventa sembra più user ho sempre pensato che fosse più comodo dal pc ecco mettiamola così guarda anch'io il 90 per cento delle inviti che faccio li faccio dal pc qualche volta mi capito dove lo fare a mobile allora eh utilizzo un'app che si chiama text expander dove ho preformattato alcuni messaggi che poi personalizzo per non riscrivere da zero tutte le volte sì perché poi col telefono insomma è abbastanza facile tagliare a scrivere sì effettivamente un po così comunque grazie a te vediamo qualcun'altro allora volevo sentire caterina che non sento da un laboratorio che abbiamo fatto insieme su sesso navigator giusto caterina mi senti giustissimo sì è molto interessante quello che ci hai fatto vedere oggi come sempre io mi sono resa conto di sbagliare perché io mando gli inviti le richieste di collegamento senza una nota e invece mi hai fatto notare che allora laddove puoi il mio consiglio è di provare a farlo abbiamo visto che le statistiche in realtà ci dicono che se la persona in qualche modo magari non ha un uso consapevole fortemente di linkedin oppure magari tende a c'è anche chi tende ad accettare tutte le chieste di collegamento per magari decidere muovere in un secondo momento ci sono varie strategie per cui in realtà hai anche una buona probabilità che la tua richiesta senza nota venga accettata in quel caso il mio consiglio è quello comunque di fare un'attività di pre engagement anche manualmente seguendo la persona provando a leggere i suoi post attivando la campanella eccetera prima di mandare una richiesta di collegamento senza nota grazie caterina trovarti ancora do la parola a anna ciao anna ciao a baudino ciao a tutti e guarda ogni volta sentirti fa aiuta a mettere a fuoco le cose e a rifare il punto bene mi fa piacere come sempre grazie leo grazie a te anna anche ti ho usato sì come come cavia va bene un abbraccio un buon weekend ci sentiamo presto magari tramite messaggi vocali chiedo anche a vittorio calzato la mano vittorio volevo chiedere storico membro dell'academy volevo chiedere se c'è il modo di mandare dei messaggi pre registrati allora non è possibile almeno tramite l'applicazione ufficiale linkedin no non so se ci sono altri strumenti che ti aiutano a fare altre altre tipo di attività di questo tipo insomma quello che può fare oggi non l'abbiamo visto invece mandare dei messaggi video assolutamente che hai già creato puoi mandare il link nel messaggio per condividere il video però è qualcosa di un po diverso ecco al messaggio audio praticamente come fa il destinatario a capire che c'è un messaggio audio beh hai visto nella finestrina vede proprio il simbolo del dell'audio del play no deve fare play vediamo se ti faccio vedere questo esempio vedi qui a destra qui si vede che questo messaggio audio leonardo bellini quattro secondi devi cliccare per farlo partire però se non va sul profilo non lo vede deve andare nei messaggi questi sono dei messaggi con anna cioè esattamente come fosse un messaggio scritto esatto soltanto c'è quella l'iconcina del play e il diciamo la la cosa blu sì che è simile a quella di whatsapp alla fine esatto sì quindi vediamo se c'è qualcun altro qualche altra domanda allora luca percorsi di attività di social selling business to consumer sì in realtà soprattutto per quanto riguarda linkedin il social selling funziona molto in un contesto business to business su altre piattaforme si può fare l'attività simile anche più business to consumer quindi la risposta è mi alla tua domanda luca comunque scrivevi magari facciamo una colla di approfondimento allora come dicevo all'inizio questo webinar non è un corso ma credo di avervi dato dei contenuti paragonabili a quelli di un corso quindi come sempre poi trasformerò questo contenuto in un corso a pagamento riceverete prova mail per poter acquistare sia la videoregistrazione sia le slide termino con un augurio uno spunto a essere un po degli degli innovatori approvare delle strade diverse e oggi ne abbiamo visti abbiamo per esempio visto gli audio non abbiamo parlato troppo dei video però abbiamo capito come in realtà la come dire il multi formato lo poter cambiare da un formato all'altro ci aiuta a migliorare i nostri risultati a creare un effetto sorpreso un effetto wow a distinguerci dalla folla quindi a trovare un elemento distintivo di originalità che ci permette comunque di ottenere probabilmente anche dei risultati differenti chi desidera prenotare una pull gratuita con me di 15 minuti lo può fare andando sul mio sito nella sezione contatti prenota una cosa che gratuita è che c'è il mio calendario con slot disponibili e quindi possiamo come dire avviare continuare la conversazione quindi come vedete io non sono bravo a fare delle strong hard call to action finali dopo magari un'ora anzi quasi 45 minuti di webinar e oggi il mio obiettivo era quello di comunque riprendere un po il filo dei miei web che era da poco non facevo e magari di così creare interesse attenzione magari un filo di riconoscere riconoscenza da persona che magari non non vedo da un po di tempo vedo anche flavio mai meri che da un po che non vedevo ciao flavio non ti avevo visto prima e vedo anche maria luisa magari se maria luisa vuol parlare la saluto volentieri ciao come stai maria luisa tutto bene ho cambiato lavoro cambiamenti ho capito però sono stata contenta poi appena ho visto che facevi il webinar mi sono ritagliata del tempo sono sempre molto interessanti va bene dai poi se mi vuoi raccontare qualcosa di più scrivermi magari ci sentiamo ok allora io vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto e ripeto se vi volete scrivere se non siamo ancora collegati mandato un invito su linkedin è facile fare riferimento a questo webinar se volete seguire diciamo i miei consigli e quindi personalizzare facilmente il il vostro invito grazie anche a luca che mi avrà risposto in chat e buona serata e buon weekend a tutti voi buona giornata ciao ancora